Le formazioni in campo Milan Soncine, Prusa, Sassi, Parazzetta, Brambilla, Basani, Bolze, Corrini, Bruni, Malvini, Sara In panchina agli ordini di Mr. De Vecchi Zanillato, Montu, Silvestri, Malcuso, Corti, Pianne Real Madrid Piltena, Rodriguez Gutierrez Dominguez, Armenteros, Diez, Grau Ramirez Paolo Lubamba La Greca Caimi Arriva Scalvo Martín Comunas In panchina agli ordini di Mr. Raya Gonzalez Camisa Fui Dias Sanchez Martín Medina Castello Cavaliero Dufo Rau Signore e signori Gli inni nazionali Prima dell'incontro A cui chiedo di ascoltare in piedi Grazie Lindo Vito? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie.